Un edificio di 13 km quadrati per un investimento da 5 miliardi di dollari. La Gigafactory di Tesla ha un obiettivo cruciale nella transizione energetica. Produrre batterie per 35 gigawatt all'ora entro la fine del prossimo anno, più della produzione globale dell'intero 2014. L'idea di Elon Musk è di raggiungere quota 150 gigawatt ora entro il 2020. Il fondatore di Tesla, fresco del primato della batteria agli ioni di litio più grandi al mondo, deve però affrontare l'impennata del prezzo del cobalto triplicato dalla scorsa estate. Secondo gli analisti, con l'attuale ritmo di sviluppo dei veicoli elettrici potrebbero verificarsi carenze di cobalto già nel 2021. Nel frattempo i mercati premiano le ultime novità della multinazionale che promette di costruire Gigafactories anche in Cina, India ed Europa.